A pochi giorni dal derby contro i Tigers Cesena, come arriva la Rechico? La Rechico arriva molto carica, siamo molto felici per quello fatto finora, però sappiamo che la partita di domenica è un derby e bisognerà dare il 110% per portarlo a casa. 8 su 8 è un record incredibile, come vedi questo primo inizio di stagione e come lo analizzi? Inaspettato, nessuno di noi nelle più rosee aspettative sarebbe aspettato una partenza del genere. 8 partite vinte, di cui 3 in trasferta in campi molto difficili, sono secondo me un ottimo inizio. Tra i protagonisti sei stato tu, come più volte ti hanno definito, un lucido folle con quei caresti da tre incredibili che hanno molte volte spezzato il ritmo. Qual è il segreto di questi tiri? Il segreto è non pensare, non pensare a fare quello che ti senti al momento. Poi la squadra mi mette in fiducia, mi dà fiducia anche quando sbaglio. Un giudizio sui Tigers, cosa ti aspetti dalla partita e soprattutto voi avrete l'arma in più che è il vostro palacattane. Sì, i Tigers sono una squadra molto attrezzata, fatta e costruita per vincere, quindi sappiamo che sarà una partita davvero dura.